Salve a tutti ragazzi, oggi vi voglio farvi mostrare come farlo funzionare col wifi, come accenderlo, come spegnerlo, come attivare le funzionalità, tutto senza telecomando, tramite lo smartphone o un semplice tablet. Il condizionatore deve essere quindi acceso per attivare quindi la funzionalità del wifi. Vedete questo qua è il kit del wifi che io con il mio condizionatore è stato già incluso e comunque se l'ho acquistato a parte è praticamente così, kit, split, wifi, qui non c'è niente, c'è soltanto il libretto di istruzioni che vi dice tutto passo per passo, però qui a me mi è stato dato in inglese. E poi la chiavetta del wifi che quindi già è installata nel condizionatore e poi quindi il codice. Quindi adesso non ci resta che a scaricare l'applicazione del condizionatore, quindi si chiama Olympia Splendid OS Comfort. Scarichiamo l'applicazione, Olympia Splendid Split, praticamente questa applicazione è qua. Mentre lui la scarica e la installa, vi faccio vedere gli screenshot, praticamente prima era così, quindi faccio già la recensione con la nuova grafica di questa applicazione. Comunque, questa è quindi la versione e sono soltanto 52 MB e c'è quindi sia per iPhone e sia per Android. Di istruzione, il modello è questo, la trasmissione via wifi è solamente a singola banda, quindi per sistema operativo tramite applicazione e quindi per dispositivi iOS e Android, quindi sia tablet, Mac, iPhone e poi tutti i dispositivi Android. Quindi da iOS 7.0 in poi e da Android 4.0 in poi. Questi sono i minimi requisiti discaregati all'applicazione, la apriamo, qui consentiamo le notifiche. Allora, vi spiego già subito come funziona l'applicazione. Allora, se avete già un account e-mail, quindi mettete il vostro indirizzo e-mail e la vostra password e accedete. Se dovete creare quindi un account, fate Crea Account, inserite l'indirizzo e-mail che avete, la password e di confermare la password. Io ho fatto il login, quindi acconsento e questo qui praticamente è la home dell'applicazione di Olympia Splendid. Quindi, come apparecchio, ora andiamo a registrare. Visto che si tratta di un condizionatore a parete, fate il consiglio di Olympia, accendete il dispositivo, è già acceso, premere quindi il LED e poi ovviamente finché il dispositivo non mostra la parola P. Quindi, quindi andiamo a fare, la panella L e il tasto LED è questo qui, quindi lo premiamo sette volte. Due. Ok, il condizionatore si spegne e fa la scritta AP. Quindi avanti. Accediamo alla nostra rete Wi-Fi. E poi dobbiamo ovviamente selezionare la rete del Wi-Fi di casa, quindi il modem, e scegliamo il Wi-Fi domestico e inseriamo quindi la password. Una volta configurato quindi il nome del modem e il Wi-Fi di casa, mi dice quindi preconfigurazione dei dispositivi fatto, connessione di dispositivo fatto e la connessione dell'unità del climatizzatore alla rete Wi-Fi domestica. Quindi si sta, si sta quindi connettendo. Allora, mettiamo quindi, questa è la mia camera, quindi mettiamo camera da letto, salviamo, esito positivo e quindi abbiamo già qui. Quindi andiamo ad accedere, quindi abbiamo qua, ora vi faccio vedere subito come si attiva il condizionatore. Non c'è bisogno quindi di puntarlo. Ok, quindi lui l'ha fatto sempre via wireless. Nell'applicazione quindi iOS è, sembra più definita, perché ovviamente mi dice la connessione, la, scusate, la temperatura dell'unità esterna, dell'unità interna, i modi, la temperatura e ovviamente le opzioni. Su Android è molto simile, ma comunque siamo più o meno con la stessa identica grafica. Forse qui è meglio come aspetto. Quindi l'aspetto è bello perché è blu e raffreddamento, se non mettiamo di umidificatore è color verde, se mettiamo riscaldamento è color arangione. Una sorta di ghiera che noi quindi possiamo mettere come temperatura oppure più o meno tramite qui, quindi 26 e lui come sentite il bip del condizionatore 25 e infatti se vi faccio vedere lo schermo è 25. Poi quindi abbiamo, oppure con la ghiera possiamo quindi aumentare e diminuire la temperatura. Quindi mi dice che il ventilatore quindi è automatico, qui quindi si accende e si spegne, le tar che sono quelli là rapidi e poi quindi qui abbiamo la temperatura. Abbiamo al momento all'interno della stanza 27 gradi e mezzo e poi all'esterno abbiamo 39 gradi, che tramite il sensore di temperatura esterno quindi ci indica la temperatura del compressore. Poi quindi abbiamo quindi qui sotto, quindi abbiamo andiamo così, abbiamo quindi la velocità della ventola che la possiamo quindi diminuire o aumentare medio oppure basso. Poi qui abbiamo l'opzione verticale per cui il verticale non funziona perché questo è un condizionatore che le alette verticali non hanno il motorino. Quindi ovviamente abbiamo quindi quelle orizzontali che sono Apple e la letta, poi abbiamo quindi la funzionalità eco che evidentemente non so se esattamente funziona questa funzionalità oppure no. Quindi se la disattivo, infatti mi dice due bip, però non so esattamente se questo condizionatore è abilitato a questa funzione dell'eco perché nel telecomando non c'è. Poi quindi abbiamo incremento che è comunque la funzionalità turbo, curva del sonno che è la funzionalità sleep, FP e frost protection per la modalità pompa di calore e l'orario che è il timer. Quindi qui abbiamo questo tipo di funzionalità, la funzionalità tipo per vedere i consumi, per quanto sta consumando in kilowatt oppure come vattaggio. Nello stesso momento manca anche questa funzionalità del silenzioso che nel telecomando cede qua e poi manca ovviamente la funzionalità self clean che è molto importante per pulire la batteria. Qui manca però secondo me la funzione eco comunque non si capisce perché nel display del condizionatore è C0 che posta per eco però non si capisce se esattamente il condizionatore quello che ho io, Olympia, Splendid, Areal S1e, se ha questa funzionalità nascosta oppure no. Oppure magari questo eco funziona o non funziona. E' peccato perché manca queste due funzionalità. Per il resto quindi lo possiamo attivare il condizionatore anche da remoto quindi anche fuori casa anche se siete quindi con la connessione 4G funziona ugualmente bene. E niente questa è la configurazione quindi passo per passo è molto 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 facile da fare quindi forse nel dispositivo Android vi chiede una connessione per entrare tipo il condizionatore si attiva tramite il wifi di casa. Poi dovrebbe essere tipo almeno nella vecchia versione in questo modo che poi il telefono doveva connettersi al condizionatore e poi ovviamente sbloccarsi e mettersi quindi con la connessione del wifi di casa. Ovviamente per chi non ha il wifi di casa questa applicazione qua secondo me non la può utilizzare però non ne sono certo se può utilizzare questa applicazione o no. Però l'applicazione è fatta bene perché come vedete negli screenshot dell'applicazione sull'app store è fatta diversamente perché prima era in quel modo. Era carina pure perché aveva un bel design come grafico però comunque di colpo hanno aggiornato questa nuova versione che non è male. Quindi potete spegnere e accendere il condizionatore e vedetevi la temperatura dell'unità esterna e dell'unità interna anche da spendo visto che lo spendo. Non so se lo vedete comunque però forse sull'iPhone è un po' molto bianco invece su Android è sul grigino. Se avete questo condizionatore Olympia Splendid conviene... Conviene conviene o non conviene il wifi? Sì ovviamente conviene perché il wifi di casa ovviamente avrete anzi la possibilità nello stesso momento di attivare il condizionatore o spegnere il condizionatore o magari attivare e mettere delle funzioni anche fuori casa. Questa la vedo è una cosa molto utile. Ci va anche un altro tipo di chiavetta ad esempio se ho un condizionatore con V e ha la stessa identica chiavetta e quello di Olympia no perché ovviamente sono due cose diverse e due cose completamente separate. Oppure se avete quindi un condizionatore visto che è sempre Midea lo stesso identico condizionatore Vedete beh io ho un altro condizionatore molto simile faccio tipo un voglio copiare la stessa chiavetta con la stessa applicazione. No non si può fare ragazzi quindi in conclusione l'applicazione è molto buona non ci sono problemi almeno su iPhone. Così su iPad la vedrete in questo formato quindi non è possibile vederla a tutto schermo su Mac la stessa identica cosa perché è disponibile soltanto per i Mac con chip M1. Su Android la vedrete che è uguale però ovviamente tipo quando è spento il condizionatore invece di quello sfondo bianco è uno sfondo grigio quindi potete vedere sempre quando è la temperatura sia esterna sia interna. Vi ho fatto quindi la configurazione passo per passo sono che ha un bel design la grafica il tutto però ovviamente i difetti ci sono perché difetti mancano la funzionalità silence la funzionalità self clean e poi anche la funzionalità c'è e anche anche qui ci dovrà essere diciamo ho messo qua ho messo quindi nel dispositivo magari qui oppure nelle informazioni in cui ci dovrebbe essere a meno magari quanto quanto stasse consumando il condizionatore. Io vi saluto ci vediamo quindi al prossimo video se volete quindi la recensione del condizionatore cercatele nel mio profilo oppure nella playlist delle video recensioni quindi là già trovate il condizionatore. Questo video è adatto per tutti i tipi di modelli di condizionatore o limpia splendida anche i portatili anche quelli là a pavimento quelli là a cassetta e quelli là anche senza unità esterna perché è uguale la procedura è sempre uguale. Grazie per la visione del video ci vediamo al prossimo video e alla prossima recensione grazie a tutti voi e buona giornata. Grazie a tutti.